Eh, ma oggi è tosta! Sono tornata in Italia, devo andare a scuola, ho 842 verifiche da fare e non so assolutamente cosa mettermi. Poi gli dicono, ci si mettono pure loro, cioè pure loro, che fanno schifo! Per fortuna mi è arrivata questa staccola! Il gioco è fatto in 5 minuti! Bene, ora sono perfetti, mi manca soltanto l'outfit. Mi devo ancora riabituare al clima di Roma, però questo completino insieme spacca, cioè ragazzi ci stanno troppo bene. Ah, e poi ovviamente gli stivali sono d'obbligo. Vabbè, ci sentiamo, non so come farò a sopravvivere a questa giornata, è impossibile.